Se la catturiamo in questo periodo eliminiamo il 90% dei casi di sopravvivenza di queste vespe qua, perché è come la trappola del calabruo. Benvenuti amici, anche quest'oggi, sempre sul mio canale. Oggi parleremo di un insetto che non tutti l'hanno ancora potuto vedere, perché da noi c'è in altre taglie, parliamo della vespa vellutina, molto presente in altri stati come la Francia, che già dal 2005 ha fatto la sua presenza, ha invaso la parte ovest in particolar modo. Noi già da qualche anno, già dal 2012-2013, abbiamo avuto esempi a Savona, Imperia, a Rovigo, nella zona alta. Adesso però sono venuto a sapere che anche nella zona della Toscana qualche problema c'è stato. dobbiamo prepararci. Come possiamo prepararci? Beh, adesso lo vedremo. Prima vi invito a iscrivervi al canale. Mi raccomando, azionate la campanellina e iscrivetevi in maniera semplice e mi raccomando un bel like se il video vi è piaciuto. Parlando sempre della vespa vellutina, dobbiamo capire una cosa importantissima. quando iniziare la lotta per questo insetto. Quando? Lo dobbiamo fare già dalla primavera. Primavera cosa vuol dire? Non aprile, non marzo, ma addirittura febbraio, in alcuni casi anche gennaio, perché dobbiamo sempre tenere a mente le temperature. Se la temperatura è abbastanza alta, cioè che supera i 10 gradi, già dovremmo mettere le trappole. Trappole importantissime perché? Perché le regine feconde che sono disponibili in quel momento iniziano a volare e mangiano di tutto, ragazzi, mangiano di tutto. Ragni, le vespe, attaccano addirittura gli altri calabruoli, comunque di tutto, mangiano di tutto. Quindi pur di portare proteine, mangiano di tutto. Cosa dobbiamo dire, oltre a questo, che la vespa vellutina, se la catturiamo in questo periodo, eliminiamo il 90% dei casi di sopravvivenza di queste vespe qua, perché come la trappola del calabruore, anche questa è mirata, i consigli che vengono dati dagli esperti, dalle varie prove che sono state fatte, l'ideale è la birra con una percentuale alcolica del 4,7, quasi anche 5, però loro danno questa gradazione qua. perché non attira le api, ma attira solo le vespe calabroni e la vespa vellutina. Dove possiamo metterle? Beh, se siamo vicino a torrenti, fiumi, zone dove passa dell'acqua, è importante metterle più in quelle zone lì, vicino a frutteti. Quindi se abbiamo piante che possono fare ombra, molto alte, perché comunque la vita sociale della vespa vellutina vi è proprio nelle fronde, di piante molto alte, 15-18 metri di altezza, quindi veramente scomode anche da poterci arrivare, però bene o male si comporta un po' come il calabrone, quindi sotto le fronde, dentro contenitori riparati, un po' dappertutto e quindi dobbiamo stare attenti. Perché noi dobbiamo stare attenti? Perché il potere di azione di questa vespa è veramente devastante. immaginate che una sola vespa, una sola vespa che è una regina, può addirittura mangiare 6.000 api prima dell'invernamento. Perché? Come funziona? Guardiamo un attimo un po' il ciclo vitale comunque della vespa vellutina. in primavera, quindi febbraio, marzo, inizia a uscire quando iniziano le prime giornate con tepore, esce fuori e inizia a mangiare di tutto, di tutto. Inizia a costruire il primo nido, che si chiama nido primario, che è piccolo, fondamentalmente come l'inizio dei nidi dei calabroni. Nella prima fase, che crea, diciamo così, la prima squadra di lavoro, la fa in questo piccolo nido. Quando è iniziato a svilupparsi nella giusta dimensione, col giusto numero di individui, abbandona questo nido qui, si trasferisce in una zona più alta, ok? dove farà il nido secondario. Nido secondario che praticamente diventa molto più grande, addirittura vengono menzionati alveari di un diametro di 50, 70, 80 cm di diametro e di altezza arriviamo anche oltre a un metro, quindi delle baccole così, c'è una roba impressionante. Fatto questo nido va avanti fino ad agosto. Fine agosto inizia lo spopolamento. Vengono completamente abbandonati dalle nuove api regine, dalle nuove vespe che sono regine, quindi che si stanno fecondando e i maschi emanano un fenormone molto potente dove vengono attirate le femmine. Fatto l'accoppiamento si danno al cibo, proprio in maniera esponenziale. Mangiano api a tutto spiano, ma qualsiasi cosa anche che li gira intorno. Cosa importante che molti sottovalutano è l'importanza davanti agli alveari, di lasciare l'erba più alta, perché se il predellino è a questa altezza e noi la tagliamo qui l'erba, cosa succede? Che la vespa, il calabrone, qualsiasi altro essere che vuole attaccare l'ape ci arriva subito, ma se c'è l'erba davanti l'ape è molto più piccola di loro, quindi passa attraverso, si appoggia e entra dentro. loro hanno molta più difficoltà ad avvicinarsi perché essendoci l'erba davanti non riescono, quindi questa è una difesa semplice, però efficace e questo è un metodo. Il secondo abbiamo visto le trappole, la trappola messa lì dentro nella zona circostante. Ricordatevi, quando vediamo le vespe e anche i calabroni, specialmente la vespa vellutina, che è l'argomento di cui stiamo parlando, alla distanza di 300-500 metri c'è l'alveare, c'è il nido proprio, quindi noi dovremmo stare attenti e ricercare questo nido. perché mettere le trappole vicino a un apprivigionamento di acqua per loro? Perché loro per costruire il nido hanno bisogno di macerare tutto quello che può essere vegetale e hanno bisogno dell'acqua per la masticazione e la composizione della carta che utilizzano per fare il nido. Fatto questo aspetto qui, noi riusciremo a prendere più vespe possibili con queste trappole qua. Impediamo in maniera normale l'aggressione, ma la cosa importante è sempre iniziare prima. Se iniziamo a prendere le regine ce ne saranno poche e pochissimi nuclei che potranno evolversi e quindi noi rischiamo sempre meno e salvaguardiamo il nostro nido. Quindi la fecondazione di questa regina avviene dai primi settembre, fine agosto, primi settembre fino a tutto dicembre, quindi è molto vitale. Quelle poche api anche che nel periodo invernale in una giornata calda che scappano fuori verranno predate se loro ci sono in giro. Cosa possiamo dire anche? Che i due nidi li possiamo trovare in posti completamente diversi, ok? Quindi come abbiamo detto prima può essere sotto una grondaia, sotto una struttura, in un cassone da qualsiasi parte, l'altra tendenzialmente tende a essere in un luogo molto più alto e di dimensioni veramente enormi. Bene, ora cosa possiamo fare? Possiamo prestare molta attenzione a quello che troveremo all'interno di queste trappole. Mettetelo e non si può mai sapere. Nella mia zona ancora io personalmente non ho mai avuto problemi. I calabroni sì, ma la vespa velutina ancora non ho avuto modo di vederla. La riconoscete perché morfologicamente è disegnata diversamente dal calabrone. Il calabrone è molto più arancione. Ma in particolar modo la velutina a quasi metà dell'addome ha una riga gialla netta, proprio molto più chiara. E quindi questa la contraddistingue. Il carapace scuro, nero, non potete sbagliarvi. Quindi quando andate a guardare le trappole, osservate quello che c'è dentro, perché questo vi farà capire se c'è qualche presenza di questi insetti qui. Ora vi do l'opportunità a voi di dare le vostre segnalazioni, se sapete qualcosa, se avete trovato, quindi visto. È importante che lo sappiamo perché chi è più vicino magari a voi lo riesce a sapere e cercherà di stare sempre più attento. Ora vi dico solo, vi invito a iscrivervi al canale. Se potete, azionate la campanellina e mettete un like se il video vi è piaciuto. Aspetto i vostri commenti giusto per capire come sta andando anche da voi. Vi ringrazio. Ciao da Antonio Di Stefano.